Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video, vi avevo chiesto tra le mie storie di Instagram se volevate un video con un sound, cioè solo un suono, allora metterò una GoPro comunque dentro e una sullo scarico così ogni tanto la mia voce sentirete il vostro fastidio comunque un minuto, due minuti perché c'è un vento, non è un bel tempo, c'è solo il sole, però qui a Trieste lavora, spinge parecchio, allora io direi sigla e montiamo in auto eccoci qua, allora mettiamo le moto dopo tre anni non mi sono ancora abituato facciamo il solito giretto in una strada praticamente non trafficata, così non diamo fastidio a nessuno e la strada è praticamente quella che uso per fare i video di riuscire a truccarsi nella RS3 adesso me li impicciolisco e passiamo al sound della macchina allora ragazzi fino a 3.000 giri il sound è piacevole ma dopo i 3.000... oh capisci sentite i volti non riesco a mi tuoi armi è troppo non riesco a mi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.